Maurizio Calì, responsabile finanza e tesoreria di una grande azienda e socio AITI, associazione tesoreria di imprese. Ho partecipato a questo corso nel ruolo di relatore e ho trovato molto interessante il mix di competenze e di relazione che si crea con aziende di più piccole dimensioni. Ho voluto quindi trasferire le conoscenze e gli skill maturati in imprese maggiormente strutturate e sentire le esigenze delle piccole e medie imprese che hanno partecipato al corso. Spero che questo confronto possa permettere di sviluppare un piano di collaborazione, di formazione più ampio in futuro.